la consulenza è il momento più importante del metodo beauty slim io la definisco la base proprio le fondamenta sulle quali poi si fonda diciamo tutto il percorso di rimessa in forma si costruisce tutto il percorso di rimessa in forma oggi brevemente ti spiegherò in che cosa consiste e come si svolge durante questo primo incontro e ci faremo una chiacchierata ci conosceremo mi parlerai dei tuoi problemi parlerai dei tuoi blocchi ma mi parlerai anche dei tuoi desideri come ti piacerebbe vedere il tuo corpo come ti piacerebbe diventare ma non sarà solo una semplice chiacchierata perché ti farò dalle domande un pochino più specifiche sul tuo trascorso o comunque sul tuo stile di vita che hai avuto fino a quel momento e sul tuo lavoro e tantissime altre informazioni per risalire alle ragioni o alle cause oppure per capire quali sono stati le azioni che protratte nel tempo ti hanno portato ad essere quello che sei in quel momento generalmente quando le donne arrivano e perché si vedono appesantite nella figura e perché stanno vivendo veramente un blocco e questa è veramente la cosa che io mi sento ripetere più spesso in assoluto i motivi per cui si blocca un corpo sono tanti sono tanti sono strettamente correlati fra di loro l'uno è sempre la conseguenza dell'altro e non sono mai comunque uguali da persona a persona quindi diciamo che per parlare di questo argomento e che un capitolo infinito servirebbe tantissimo tempo e lo tratteremo sicuramente in uno dei nostri video tornando a noi invece la nostra consulenza dopo questa prima chiacchierata c'è una seconda parte dove guarderò il tuo corpo la tua morfologia la tua postura il tuo addome e alla fine faremo un trattamento di prova un vero e proprio trattamento conoscitivo che servirà ad entrambe a me servirà comunque per conoscere il tuo tessuto per vedere come il tuo corpo reagisce a questo test come si comporta e a te servirà comunque per conoscere le nostre manualità tutte queste preziose informazioni che verranno raccolte alla fine saranno per me proprio lo strumento saranno una potente arma che mi permetteranno di farti raggiungere i risultati che sempre sognato